Ennesima notte di paura nel granghetto di Rignano. Quasi certamente per il cattivo funzionamento di una stufa utilizzata dai migranti per riscaldarsi, è scoppiato un pericoloso incendio che nel cuore della notte ha costretto i residenti a cercare scampo lontano dalle baracche. Il luogo è divampato poco dopo le 3.30 e ha letteralmente incenerito una trentina di casupole, per lo più costruite con legno, cartone e plastica, materiale ovviamente altamente infiammabili. Per fortuna non si registrano feriti tra i circa 500 migranti che attualmente risiedono nel campo. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme ed evitato un ulteriore rischio, quello dell'esplosione di alcune bombole di gas. Nel campo sono giunte anche le volanti della polizia e le pattuglie dei carabinieri.